Giornata conclusiva all'interno del Palasport Luca Polsinelli di Sora per il progetto di educazione ambientale Rifiuti la nostra traccia nell'ambiente a cura di Ambiente e Salute SRL e del Comune di Sora in collaborazione con la riserva naturale regionale Lago di Posta Fibreno. Il maltempo che persiste nelle nostre zone ormai da giorni non ha permesso la conclusione di questa progettualità all'interno della riserva, ma l'appuntamento è stato solo rimandato all'inizio del prossimo anno scolastico come ha ricordato Antonio Mele, presidente di Ambiente e Salute SRL, con il direttore della riserva Antonio Lecce. Siamo qui al Palazzetto dello Sport di Sora Polsinelli, siamo nella giornata conclusiva del progetto che ha interessato tutti gli istituti comprensivi di Sora e anche i paritari. È stata una bellissima iniziativa, abbiamo coinvolto più di 800 bimbi. Voglio ringraziare soprattutto per la partecipazione in primis i bimbi e poi soprattutto i dirigenti scolastici che ci hanno dato questa opportunità. Per noi è molto importante perché si parte proprio come nella costruzione delle abitazioni dalle fondamente. Le fondamente della nostra società sono proprio loro, sono i bimbi. Saranno la classe dirigente futuro del nostro paese e è da loro che si riparte. Ringrazio il comune di Sora e ringrazio la riserva naturale del lago di Posta Fibreno per la disponibilità che è data, soprattutto per le ore di lezione che ha visto impegnato i ragazzi nelle scuole. L'unico rammarico è stato il brutto tempo che non ci ha permesso di fare questa giornata conclusiva come previsto nella riserva naturale, però come ha promesso ai bimbi la recupereremo fine settembre e inizio ottobre, inizio l'anno scolastico nuovo. Il tempo non è stato clemente, non è clemente in questi giorni. Purtroppo piove per cui abbiamo rimediato in questo palazzetto dello sport. È stato un progetto che noi abbiamo accolto molto favorevolmente da quando l'Ambiente S.P.A.C. ha invitato a volerlo svolgere con tutte le scuole di Sora. È stata una scommessa che possiamo dire che stiamo quasi vincendo perché affrontare tutti questi bambini non era molto semplice, però il nostro obiettivo era quello di far conoscere l'ambiente terra a tutti quanti e come comportarci sull'ambiente terra partendo dai rifiuti, da come non utilizzare i rifiuti nella maniera più sbagliata possibile, per cui indirizzare i bambini delle scuole elementari di Sora ad un uso consapevole della risorsa rifiuti. La capienza importante del palazzetto è riuscita ad accogliere tutti gli studenti delle scuole primarie della città che hanno preso parte al progetto di educazione ambientale. A portare i saluti dell'amministrazione comunale la consigliera delegata all'istruzione Francesca Di Vito. Concludiamo oggi il progetto di educazione ambientale di tre istituti comprensivi e le scuole paritarie della città di Sora. Un grande successo con le prime due lezioni che si sono svolte proprio nelle scuole e quest'ultima giornata che purtroppo doveva essere svolta nella riserva naturale di Postafibreno, causa maltempo, abbiamo trasformato la riserva nel Palapolsinelli. Oggi è uscito il sole ma ieri diluviava e quindi per non far stare seduti i bambini nella melma è stata nostra premura farli stare comodi all'interno di questa struttura che il Comune ha a disposizione. Grande partecipazione da tutti gli istituti, grande attenzione dai bambini e questo ci ha resi orgogliosi e nonché felici perché anche dopo le lezioni erano loro che ci dicevano di stare attenti, di fare attenzione dove buttare la plastica piuttosto che la carta, quindi devo dire che le lezioni sono servite. Loro sono il nostro seme che germoglierà e quindi apprendiamo da loro tutti i consigli che noi stiamo cercando di dargli. In questa giornata finale i ragazzi hanno potuto assistere ad uno spettacolo teatrale a cura della compagnia Lanciavicchio di Avezzano che fa teatro per ragazzi con esibizioni sul tema ambientale. Ai giovani studenti sono state offerte merende genuine ed infine un dono speciale, il gioco dell'oca differenziando per imparare giocando la raccolta differenziata.